Una pioggia di Daspo è quella in arrivo per molti tifosi di Paganese e Casertana che si sono resi protagonisti degli incidenti nell'immediato post-derby di domenica sera valevole per la terza giornata del Girone C di Lega Pro. Al vaglio dei Carabinieri ci sono le immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza sia all'interno che all'esterno dello stadio Marcello Torre e anche quelle dislocate lungo il tragitto percorso dai tifosi della Casertana verso il casello autostradale. Sembrano essere ormai accertate alcune versioni di cui si era parlato nelle ore immediatamente successive alla partita. Questo in sintesi quanto accaduto. I tifosi della Casertana giunti a Pagani hanno seminato il panico tra i cittadini che circolavano per le strade. Minacce, gestacci, insomma momenti concitati che solo per fortuna non hanno prodotto reazioni e incidenti. La gara poi. Dopo il gol vittoria realizzato dalla Casertana proprio negli ultimi minuti dell'incontro dall'ex Luca Orlando i circa 180 sostenitori dei falchetti presenti nel settore ospite dello stadio Torre hanno cercato di provocare alcuni tifosi locali presenti nella vicina tribuna centrale. Sembravano i classici sfottò dettati dalla gioia del gol vittoria. Invece alcuni dei 180 tifosi della Casertana avrebbero tentato dapprima di lanciare oggetti in tribuna e sono stati prontamente bloccati dagli steward presenti per il servizio d'ordine. Non appena pronti per lasciare lo stadio, alcuni di loro, travestiti da teppisti, hanno sfondato uno dei cancelli di separazione tra il settore ospiti e la tribuna dalla quale stavano uscendo anche molte famiglie con tanto di bambini al seguito. La paura ha provocato un fuggi-fuggi generale, mentre i carabinieri cercavano di respingere i vandali che invece non volevano altro che il contatto con i locali. Intanto, dalla curva e dai distinti, si muovevano sostenitori della Paganese che a loro volta cercavano il faccia a faccia con quelli di Caserta. Ne nasceva una sassaiola, mentre i militari riuscivano ad allontanare i tifosi ospiti sui pulmini che dovevano riportarli nella città della Reggia. Durante il percorso però in zona Santa Chiara, uno dei mezzi che trasportava un gruppo di tifosi della casertana, come confermato anche dai carabinieri, era fatto oggetto di un ride con un fitto lancio di pietre. Quelli di Caserta cercavano di difendersi, rompendo una statua davanti a un bar per tentare di utilizzarne il cemento prodotto contro i rivali. Scene di guerriglia urbana che solo per fortuna non hanno provocato danni seri alle persone ma soltanto ad auto in sosta con vetri di molte vetture in frantumi. Tanto spavento per persone che si trovavano nella zona di Santa Chiara, ignare di quanto stesse avvenendo. Poi i carabinieri sono riusciti a riportare la calma. Calma che invece ha perso il sindaco di Pagani, Salvatore Bottone, tra l'altro presente allo stadio, che ha chiesto al prefetto di Salerno Malfi di prendere urgenti provvedimenti, sottolineando con forza di non voler più vandali a Pagani in occasione delle gare di calcio. Possibile che per alcuni incontri a rischio in futuro, come lo era questo Paganese casertana, venga presa la decisione del divieto di trasferta. Si sapeva che poteva essere una tifoseria calda quella della Casertana e che non c'erano dei rapporti ottimali con la tifoseria paganese. Quindi ho chiesto di evitare che potessero arrivare qui in città. Ed è quello che chiedo e che dobbiamo pretendere da parte del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, anche quando si tengono le partite, quindi diretto da Sua Eccellenza il prefetto, di evitare che si possano avere questi incontri, avere queste tifoserie all'interno della città, della mia città.